Musica Lunedì 22 maggio, buonasera a voi tutti, ben ritrovati dall'informazione di Vercelli Web TV, la cronaca. Nei giorni scorsi la polizia di Vercelli ha fermato un cittadino magrebino di 25 anni in via Trieste a Vercelli. Dai controlli è emerso che il giovane era solito spostarsi frequentemente in diversi comuni del nord Italia, dove commetteva reati di vario genere, da quelli inerenti il patrimonio e gli stupefacenti, fino a numerosi reati contro la persona. Un pluri pregiudicato quindi che è stato accompagnato presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di Torino per il successivo accompagnamento coatto alla frontiera. Per festeggiare i primi 25 anni di attività, Vercelli Viva ha deciso di donare a tutti gli studenti delle quinte classi degli istituti superiori cittadini una coppia di un volume della collana Vercellesi Illustri. Il presidente di Vercelli Viva, l'avvocato Ruffino, ha consegnato personalmente i volumi ai diversi istituti scolastici. Sentiamolo in questa intervista. Questa iniziativa è fatta, come gentilmente lei ha preannunziato, per ricordare i 25 anni della nostra vita associativa. Ed è fatta proprio nell'ottica di raggiungere il maggior numero possibile di persone per avvicinarle e renderle in un domani partecipi di quello che noi facciamo. Devono conoscere Vercelli Viva attraverso una pubblicazione, che è uno dei volumi della collana Vercellesi dell'anno, da noi pubblicato questo ultimo mese di febbraio. Questo volume è stato distribuito e consegnato dal sottoscritto ai presidi di tutti gli istituti superiori cittadini in numero corrispondente a quello degli allievi del quinto anno che si accingono ad affrontare gli esami di maturità e quindi l'anno prossimo saranno studenti di università o artigiani o professionisti per le scuole di formazione professionale che entreranno nel mondo del lavoro. Premiati gli studenti delle scuole ORAFE a Valenza, vediamo il servizio che ci ha inviato il nostro Massimo Iaretti. Valenza si conferma la città dell'oro e la scuola valenzana ribadisce il suo livello d'eccellenza a livello ORAFO. Domenica pomeriggio al Centro Comunale di Cultura in piazza 31 Martiri c'è stata la consegna dei premi dell'ottava edizione del concorso Sant'Eligio promosso dalla confraternita che porta il nome del santo e di San Bernardino oltre che dal comune. E sono entrambi allievi di istituti valenziani i vincitori delle due categorie. Sui manufatti il migliore realizzazione è andata ad Alessio Cosci del Foral di Valenza. Nella sezione progetti invece il primo posto è andato ad Eleonora Passera, allieva dell'istituto Benvenuto Cellini. Quindi una giornata veramente all'insegna dell'oreficeria valenzana in una competizione che ha visto le opere di 11 scuole, delle quali una greca, mentre non sono arrivati gli allievi della scuola cinese di Shanghai perché le loro opere sono rimaste ferme in dogana. Terzo appuntamento il prossimo mercoledì alle ore 18.30 con la rassegna cinematografica Movie Teller al Cinema Italia di Vercelli. La rassegna è dedicata al cinema piemontese nel senso di film gerati sul territorio piemontese come ci spiega Alessandro Gaito, curatore dell'evento. Per quanto riguarda i prestiti cinematografici locali, il ragionamento è molto più ampio. Nascono nel 2010 con l'associazione Piemonte Movie. Sono stati creati in una serie di cittadine dove non c'erano più i cinema o dove non ci sono mai stati i cinema, ma soprattutto dove c'erano e poi si sono chiusi. E l'intento è quello di andare a creare delle comunità cinematografiche riportando, promuovendo e diffondendo il cinema realizzato in Piemonte. Abbiamo dei coordinatori nei presidi storici che sono Chiarasco, Poirino, Baveno, insomma Manca ancora Vercelli. Esattamente, manca ancora Vercelli e speriamo che proprio dal lavoro che è stato fatto qua adesso sul territorio si vada poi a individuare un coordinatore, si possa avere un referente qui fisso tutto l'anno proprio per portare avanti i ragionamenti che dicevamo prima di promozione del cinema comunque nel corso di tutto l'anno nelle sale cinematografiche. Grazie, grazie. Sempre mercoledì sera sarà di scena lo spettacolo a passi di danza verso la comicità, inserito nelle manifestazioni della maratona Una vita tra le mani, attiva per raccogliere fondi per l'AERC, l'associazione per la ricerca contro il cancro. Lo spettacolo della scuola di danza Dance Team vedrà il clou con l'intervento comedico di Max Cavallari del celebre duo dei Fichi d'India. L'appuntamento sarà a Teatro Civico di Vercelli alle ore 21. I biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso il caffè imperiale di Via Verdi a Vercelli. L'appuntamento più importante di quest'anno dove abbiamo investito parecchio e speriamo che ci sia la risposta del pubblico di Vercelli è mercoledì sera 24 maggio al Teatro Civico di Vercelli, dove grazie all'aiuto della Dance Team di Federica Rosso abbiamo la presenza di due compagnie di ballo, non due scuole di danza, ma ben due compagnie di ballo, una di Nunzio Perricone, ex ballerino di Amici, e l'altra di Massimiliano Perugini, che è il direttore del MAS di Milano. La serata si chiama A passi di danza verso la comicità perché a concludere la serata avremo Max Cavallari dei Fichi d'India. E' sempre mercoledì sera, Max Cavallari sarà alle 19.30 all'Osteria La Piolla di Via Fo a 74 per incontrare gli amici e poi recarsi insieme a Teatro Civico per lo spettacolo. Il pittore vercellese Massimo Parachini si è aggiudicato al terzo posto, il quindicesimo Gran Premio Città di Savona intitolato L'Ombra e la Luce ed ha vinto l'esposizione collettiva la Torre Saracena di Santo Stefano al Mare con il patrocinio del Comune e della Provincia di Imperia dal 26 maggio al prossimo 9 giugno. Ci fermiamo un istante prima della pagina sportiva. E per il calcio il mister Moreno Longo è molto soddisfatto del campionato della sua Provercelli. Sentiamolo ai nostri microfoni. Addetti ai lavori sportivi fanno i complimenti alla Provercelli ma anche a Moreno Longo il cui nome già adesso rimbalza su giornali, su siti, questa cosa la lusinga le fa piacere, le dà fastidio? No, è sicuramente una cosa che mi lusinga perché vuol dire che è stato dato merito comunque al lavoro che abbiamo fatto. Io credo che il raggiungimento di questa salvezza lo davano davvero in pochissimi proprio per come è formata questa Serie B, che è formata comunque da società che hanno comunque dei budget decisamente più importanti del nostro, hanno dei fattori ambientali che comunque incidono e non poco sulle partite e soprattutto hanno degli organici esperti e navigati, quindi averlo fatto con una squadra giovane, secondo me come lo è stata davvero la nostra, è motivo di orgoglio e quindi che l'abbiano notato sicuramente fa molto piacere. Bene, il nostro giornale termina qui, l'appuntamento domani alle ore 19. Grazie per averci seguito, buona serata. Grazie per averci seguito, buona serata.